In questa unità didattica verranno suggerite alcune fonti per la ricognizione di percorsi disciplinari strutturati in ottica di genere e si affronterà la questione dell'utilizzo dell'ottica di genere in alcune discipline. Nell'ambito del pensiero femminile del Novecento, attraverso la figura e il pensiero della filosofa Anna Arendt, verrà sollecitata una riflessione sul rapporto tra filosofia e studi di genere, sull'importanza dell'introduzione della dimensione di genere nello studio della disciplina. Due precisazioni innanzitutto. Il genere, superando ogni interpretazione di carattere biologico, indica l'organizzazione sociale dei rapporti tra i sessi e quindi l'origine interamente sociale delle idee circa i ruoli più adatti agli uomini e alle donne. È una categoria di interpretazione storica che comprende tutte le caratteristiche collegate all'organizzazione sociale delle relazioni tra i sessi. Women's studies e gender studies sono termini coniati in ambito anglo-americano. In Europa si sono diffusi programmi di gender studies sia autonomi che integrati a livello accademico e gli studi di genere si fondano sulla consapevolezza che nella produzione e nella distribuzione del sapere si parte sempre da un luogo e da un corpo precisi. Gli studi di genere sono dunque un corpus di studi marginale che si alimenta di uno scambio tra società e mondo accademico e fondato su un approccio solitamente interdisciplinare all'analisi della situazione delle donne e delle relazioni di genere, nonché alla dimensione di genere estesa a tutte le discipline. L'obiettivo è rendere visibile l'esigenza di ricondurre a una visione d'insieme l'esperienza di donne e uomini come soggetti della storia e del pensiero. Se ci chiediamo a cosa servono oggi gli studi di genere possiamo ricordare che la parità di genere è uno degli indicatori del livello di democrazia di un paese perché le discriminazioni, la violenza di genere e le rappresentazioni stereotipate delle donne possono limitare la partecipazione alla vita pubblica e lavorativa. In Italia esistono gli studi di genere ma per lungo tempo non furono chiamati così almeno fino alla fine degli anni 90 a livello accademico. Secondo un'indagine realizzata da due dottorandi nel 2013 per l'AIS, l'Associazione Italiana di Sociologia, sugli studi di genere nelle università che si basa su una serie di dati raccolti fino al 2011, sappiamo che abbiamo circa 60 insegnamenti di genere tra corsi di laurea triennale e magistrale, una decina di corsi di perfezionamento, sei master, quattro dottorati e il 74% di questi corsi si tiene nelle università del nord Italia. Gli ambiti disciplinari sono quelli delle letterature straniere, della storia e della sociologia e ricordo che solo negli Stati Uniti nel 2007 sono stati offerti circa 1090 corsi riconducibili all'area degli women's studies. Sposto il focus di questo breve intervento sulla declinazione del genere nelle discipline, attraverso le discipline, prendendo ad esempio inizialmente la storia, l'antropologia e la sociologia per giungere a un quadro sulla filosofia infine. La ricerca delle donne in Italia si radica dagli anni 70 contestualmente allo sviluppo del movimento femminista e riguarda varie discipline tra le quali appunto la storia, la psicoanalisi, la filosofia, la medicina, la scienza. Per quanto riguarda la sociologia sappiamo che negli anni 70 si è costituito un gruppo di ricerca sulla famiglia e sulla condizione femminile, il grief, che si riuniva presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Milano. Era composto da donne intellettuali e studiose, tra le quali Laura Balbo, Bianca Beccalli, Franca Bimbi, Chiara Saraceno e si concentrava sugli assetti, sulle relazioni sociali, sul mondo del lavoro, dei servizi, sui luoghi dell'azione politica e della partecipazione delle donne. Hanno prodotto un particolare corpus di studi che si fondava sul concetto di doppia presenza, che si deve a Laura Balbo, che l'ha elaborato nel 1979, descrive la disposizione femminile ad agire e pensare in modo trasversale rispetto ad ambiti prima concepiti e praticati come separati e talvolta opposti, personale politico, famiglia, mercato del lavoro, produzione e riproduzione. L'introduzione dell'ottica di genere in antropologia si fonda sull'assunto che tutte le ricerche sono condizionate da tre elementi soggettivi, l'epoca della ricerca, la classe sociale e l'individualità del ricercatore. L'antropologa Ernesta Cerulli fa notare come la differenza del soggetto conoscente, quasi sempre maschile, abbia condizionato non poco la qualità delle informazioni sulle donne. Per quanto riguarda le discipline storiche, la storia delle donne nasce, cresce fuori dall'ambito accademico. Si chiedeva cosa fosse un soggetto femminile nella storia, come parlasse, come fosse rappresentato e dove individuarlo per rendere anche le donne protagoniste della ricerca storica. Ma qual è lo spazio dunque per l'ottica di genere nella didattica della filosofia? La filosofa femminista Rosie Braidotti propone all'inizio degli anni 2000, nel 2003 precisamente, tre strategie metodologiche che l'insegnante può utilizzare per la decostruzione dei tradizionali canoni della filosofia e delle sue domande fondamentali. Innanzitutto rintracciare le voci delle donne, smascherare i pregiudizi e denunciare gli stereotipi di genere e smascherare i meccanismi dell'esclusione. Per i punti 2 e 3 condivido un esempio di unità didattica a cura di Ottavia Nicolini, tratta dalle schede di supporto al testo La differenza insegna e per l'ultimo punto una riflessione sull'attualità della filosofia di Anna Arendt nel ripensamento delle politiche di genere e sui motivi dell'affinità tra la filosofia di Anna Arendt e il movimento femminista. Scopo di questa unità didattica, dal titolo Né serva né padrona affermare la differenza sessuale, proposta dalla ricercatrice Nicolini, in cui viene discussa la filosofia di Hegel, è mostrare come il sistema hegeliano si basi sull'esclusione e sulla marginalizzazione delle donne e della loro autonomia. Per questo si cerca quindi di mostrare come la differenza sessuale costituisca uno degli assi fondamentali lungo cui si è strutturato il pensiero politico e filosofico della modernità. Assunto di questa impostazione è l'iscrizione della tradizione occidentale in un ordine simbolico patriarcale, il cui centro è rappresentato dall'uomo. Se l'uomo è il modello, la donna allora è definita come altro dall'uomo e la sua differenza di per sé irrappresentabile è tradotta nei termini di mancanza e di inferiorità. In altre parole, attraverso il testo filosofico si riflette sul maschile e sul femminile, che dunque non sono due termini neutri, ma costituiscono i due poli di una struttura oppositiva, binaria e asimmetrica, in cui uno dei due poli in questo caso si determina attraverso l'esclusione, la subordinazione e la svalorizzazione dell'altro. Le fasi di lavoro per impostare questa unità didattica suggerite sono le seguenti. Una fase di preascolto e di presentazione del problema, in cui l'insegnante inserisce la questione in un quadro generale e prepara la classe ad affrontare l'argomento dell'unità didattica. La fase di lettura e analisi dei brani di Hegel, in cui tratta del ruolo della donna. Una fase critica del testo attraverso la lettura di alcune critiche femministe, in particolare di Simone de Beauvoir e Carla Lonzi. La lettura e l'analisi di alcuni brani tratti dall'opera, dal lavoro, sputiamo su Hegel di Carla Lonzi del 1970. Infine una verifica delle conoscenze e delle competenze apprese. Viene proposto dunque di sviluppare l'immaginazione attraverso un elaborato scritto, oppure di realizzare un altro tipo di lavoro creativo o artistico a casa, da soli o in piccoli gruppi, che abbia come fine quello di superare le convenzioni e gli stereotipi di genere. La fase critica del testo verte appunto sulla lettura di questo lavoro di Carla Lonzi del 1970, incentrato su un'analisi della fenomenologia dello spirito e della fenomenologia dello spirito patriarcale in particolare di Hegel. Come dicevo poco fa, la filosofa femminista Braidotti propone nel 2003 strategie metodologiche per la decostruzione dei tradizionali canoni della filosofia e delle sue domande fondamentali. Mi soffermo ora sul primo punto, rintracciare le voci delle donne e come ho costruito questa parte? A partire da una domanda di ricerca su Anna Arendt e sulle interpretazioni femministe. Mi sono dunque chiesta quali siano i motivi di un'affinità tra Arendt e il femminismo, quale è l'attualità di Anna Arendt nelle politiche di genere. Brevemente due parole sull'autrice, sulla filosofa. Come sapete tutti, Anna Arendt è una politologa, una filosofa, una storica tedesca naturalizzata statunitense in seguito al ritiro della cittadinanza tedesca nel 1937, autrice delle origini del totalitarismo, di vita attiva, della banalità del male, della vita della mente. Anna Arendt non si è riconosciuta nel movimento femminista e non ha sottaciuto alcuni atteggiamenti conservatori sulla questione di genere. Le componenti del movimento femminista orientate all'obiettivo dell'emancipazione e all'affermazione del diritto all'uguaglianza considerano il pensiero di Arendt troppo intellettuale e illuminista. Cosa è accaduto però? Si è verificata un'appropriazione in chiave femminista di una serie di tematiche arendtiane. Un elemento che concorre a far scattare tra lei e le studiose femministe una forte affinità è il fatto che usi un approccio che possiamo definire globale, finendo col convergere su una riflessione sull'intera condizione umana. Per Anna Arendt il rapporto di alterità è costitutivo della condizione umana, in quanto ogni essere umano che nasce è un'individualità al plurale, che da questa sua condizione esistenziale trae la disposizione a sentirsi cittadino del mondo. Attraverso una lettura in chiave antropologica e filosofica dei testi arendtiani, molte studiose sviluppano le loro riflessioni sul politico, insistendo sul valore del partire da sé, per impegnarsi a costruire un mondo in cui la differenza possa essere legittimata e possa esprimersi come modalità di crescita della comune radice umana. Per quanto riguarda l'ambito pedagogico, in La vita della mente, Arendt lega il momento della riflessione individuale cui associa la libera ideazione e l'approccio spontaneo al sapere alla formazione del senso critico, il che investe i contesti educativi della responsabilità di dare spazio alla rielaborazione personale di conoscenze. Il riferimento al modello arendtiano di vita della mente ci rende avvertiti sia della necessità di tutelare il momento individuale dell'elaborazione concettuale, sia del potenziale ideativo che si annida nell'assenza di visibili impegni operativi. Arendt è anche un'antesignana delle critiche femministe al settorialismo del sapere, perché non si situa nella filosofia intendendola come una pratica intellettuale codificata. Inoltre, alcune ricercatrici ipotizzano che con la sua critica alle filosofie che non si fanno carica o del fattore umano, precorra l'opzione femminista per la cosiddetta conoscenza situata. Dunque, per concludere, dopo aver ripercorso questi due esempi di opzioni utilizzabili per sviluppare l'ottica di genere nell'insegnamento della filosofia, si può suggerire di sperimentare percorsi affini provando a far riflettere sempre a partire dai testi e magari stimolando l'immaginazione dei ragazzi attraverso un elaborato scritto oppure un altro tipo di lavoro, anche creativo o artistico, da far svolgere a casa, da soli o in piccoli gruppi, che abbia come fine quello di superare le convenzioni e gli stereotipi di genere. Grazie. Grazie. Grazie.